Ben trovati a Spunti e Spuntini, abbiamo come ospite in questo spazio Giuseppe Fanfani che è il garante dei diritti dei detenuti, ex sindaco di Arezzo, però Beppe ti abbiamo invitato, ovviamente possiamo parlare di qualsiasi cosa, ma partiamo dalla tua relazione che ieri hai fatto in Commissione Sanità, se non sbaglio, della Regione rispetto al ruolo che tu ricopri, il ruolo importante di garante dei diritti dei detenuti. Ieri sono stato ascoltato in terza Commissione per affrontare il problema dell'impatto che il Covid aveva avuto all'interno delle carceri, tema particolarmente delicato perché come è noto in Italia ha creato le condizioni per delle grandi sommorse, per esempio quella di Modena e quella di Rieti con 13 morti e anche in Toscana una sommossa per Chiaprato il 9 di marzo, era stata alla dogaia una rivolta che per fortuna non ha avuto morti, ma insomma i fatti sono stati particolarmente gravi e anche la situazione meritava di essere correttamente affrontata. Quali sono, emergono molti dati anche drammatici da questa tua relazione, quindi c'è un disagio psicologico evidente anche all'interno delle carceri dovuto a questo virus? Già in carcere si vive malissimo in condizioni tra virgolette normali. Il virus ha scatenato una fobia generale resa ancora più grave da diversi fattori concomitanti, il primo il non poter più vedere e ricevere visite da parte dei parenti, il secondo non aver più rapporti con il volontariato che entra in carcere e fa un grandissimo lavoro, supplettorio, di non aver più la possibilità neanche di svolgere lezioni se non a distanza e sostanzialmente di non aver più contatti con l'esterno e neanche la possibilità di trasferimenti. Insomma, c'era un irrigidimento complessivo del sistema che ha creato una intollerabilità generale. Voi capito che vivere all'interno di una cella di 15 metri quadri in due o tre persone con la prospettiva di doverci stare dieci anni fa uscire di testa chiunque, anche i più solidi. Ma in una situazione di questo tipo ovviamente la fragilità aumenta in maniera spaventosa. Solo a Sollicciano ci sono stati 700 eventi lesivi, vuol dire gente che si è tagliata, gente che ha ingoiato di tutto, gente che ha respirato il gas dei fornellini e via via via. Quindi è una situazione pesantissima, con tre suicidi e una morte per cause naturali, probabilmente da ingestione di qualche sostanza, nell'anno scorso, nel mese di maggio. Senti Beppe, quali sono le misure che come garante senti la necessità di dover prendere? Il garante non adotta misure, verifica che ciò che viene fatto venga fatto in maniera corretta, nel rispetto di tutte quelle garanzie primarie di carattere costituzionale che accompagnano tutte le persone dal momento della nascita in poi, dovunque esse si trovino. E ha il compito di garantire che la dignità delle persone sia massimamente conservata. Noi abbiamo dei limiti del possibile, perché anche l'accesso agli istituti è stato particolarmente limitato. Abbiamo fatto di tutto perché in questo momento particolarmente difficile non venisse meno nulla di quella attenzione che si deve avere nei confronti dei più deboli. E più deboli di così, credetemi, non ce ne sono. Senti Beppe, come si svolge il tuo ruolo in questo momento in cui la mobilità è ovviamente molto limitata? Hai l'occasione di andare a visitare alcune strutture? Sì, sì, io ci sono stato anche recentemente, sono stato a Sollicciano un paio di volte, sono stato a Volterra, sono stato a Pisa, sono stato da altre parti. Ma il problema è che entrare in carcere in una situazione pandemica come quella attuale, senza essere vaccinati, perché io ancora, malgrado sia quasi 74 anni e non sono vaccinato, attendo il mio turno, assieme a tutti gli altri detenuti, è particolarmente rischioso. Vedi, a Volterra, per esempio, fino a due settimane fa c'era uno o due positivi sì e no. Poi all'improvviso sono diventati 57 nell'arco di due o tre giorni. La situazione può diventare esplosiva, quindi bisogna avere particolarmente attenzione. Aspettiamo di essere vaccinati per riprendere sistematicamente visite periodiche in tutti i carceri. Devo dire che ogni realtà, Arezzo no per la verità, e questo mi dispiace molto, ogni comune ha nominato il proprio garante comunale e sarebbe bene lo facessero tutti, compresa Arezzo. Ah, quindi dici che tutti i carceri nei comuni dove stanno hanno un garante comunale? In Toscana abbiamo 16 carceri, più abbiamo due istituti minorili, uno a Firenze e uno a Pontremoli. Poi abbiamo due REMS, che sono i vecchi ospedali psichiatrici criminali. Gli OPG, i vecchi OPG, esattamente. Ecco, nei comuni in cui esiste un carcere, sarebbe bene che ci fosse anche un garante. Devo dire che in quasi tutti i comuni della Toscana, in cui c'è un carcere, hanno nominato da tempo i garanti. Ce ne sono alcuni che non ce li hanno, Arezzo è uno di questi. Ma perché non è stato nominato? Ma credo che abbiano avuto problemi diversi, ho già scritto a tutti i sindaci che non hanno provveduto, sollecitandoli a provvedere e andrò a trovarli personalmente appena il Covid lo consentirà. Per esempio quando tu eri sindaco c'era il garante dei diritti dei diritti? No, ancora no, perché il garante in Toscana è una conquista recente, diciamo che è entrato in vigore nel 2013 con il grande magistrato Margara. A livello nazionale il garante è entrato in vigore nel 2015, quindi diciamo che sono tutte istituzioni di recente nomina. Perfetto, io ti ringrazio Beppe, ci sentiamo la settimana prossima perché oggi abbiamo avuto poco tempo a disposizione per motivi tecnici, vorrei approfondire un po' sempre l'argomento e parlare anche di qualcos'altro con te che è sempre interessante. In settimana prossima se vuoi ti mando tutti i dati che adesso non ho con me, così lo possiamo approfondire dati alla mano perché sono particolarmente interessanti. Perfetto, grazie Beppe, buona giornata. E poi se vuoi parliamo di Dante perché la settimana prossima ci sarà anche il 25, 25 marzo è la giornata di Dante. Grazie, grazie ancora Beppe, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao, ciao, ciao.